27 settembre e al 3 ottobre Pisa diventa la città dei robot con la seconda edizione del festival della robotica testimonial d'eccezione Marcello Lippi e Andrea Bocelli in anteprima vi presentiamo le immagini dello spot Cristina Benedetti Benvenuti a Pisa, capitale mondiale della robotica ti aspetto nella mia bellissima robot ballet industria, produzione, ricerca e avanguardia l'eccellenza è qui ha prestato il suo volto per annunciare al mondo la seconda edizione del festival internazionale della robotica in programma Pisa dal 27 settembre al 3 ottobre Andrea Bocelli sarà con Marcello Lippi il testimone al d'eccezione dell'evento che candida ancora una volta la città della torre, centro di eccellenza mondiale della robotica sette giorni, decine di eventi per raccontare il contributo dei robot nella vita quotidiana e conoscere le più importanti ricerche e applicazioni che stanno cambiando la nostra esistenza la robotica ha rivoluzionato la sala operatoria ha assunto un'importanza eccezionale meno trauma, pronto recupero dagli interventi riabilitazione tutti gli aspetti legati alla invalidità industria, medicina, nautica, beni culturali, green economy non saranno solo questi i protagonisti della manifestazione che vedrà eventi culturali ed artistici senza precedenti il 3 ottobre al Teatro Verdi di Pisa ci sarà l'evento Clou con il nostro super testimonial Andrea Bocelli ci saranno veramente delle grandi sorprese le prime al mondo che vedremo in un contesto particolare che rappresenta la chiusura vera di questo festival che è una conferma per Pisa e per tutto il mondo Grazie a tutti